Si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'Aquila Montevarchi per la stagione 2020-2021. È stato confermato Mr. Malotti che ha la prima esperienza dall'inizio in una panchina. Nella vita, lo stavo dicendo prima, quando hai un'età come io dovresti fare le cose che ti fanno star bene. Stare a Montevarchi mi fa star bene, indipendentemente da quello che poi può essere il risultato finale. E quindi ho fatto una scelta, perché è una scelta che in questo momento volevo. Mi fa star bene, per la prima volta in vita mia parto dall'inizio. Alla fine poi la mia pausa l'ho già fatta, perché è passato sei mesi. Quindi va bene così, sono contento di partire, ho voglia di partire, ho voglia di confrontarmi a una situazione diversa da quella che è sempre stata per me. Quindi spero di aver fatto la scelta giusta. Abbiamo chiesto al direttore sportivo Giorgio Rosadini come si muoverà il Montevarchi sul mercato. I programmi del Montevarchi sono quelli di continuare con il progetto che abbiamo iniziato da anni con i nostri giovani e in attesa magari di accontentare l'allenatore in quelle che sono quelle poche richieste che ci sta facendo su dei giocatori con determinate caratteristiche. Quella di Sussi è stata una cosa che è avvenuta in questi giorni e sicuramente dovremo sostituirlo, ci stiamo guardando intorno. Il Presidente Livi, come tutti, si augura che il campionato riparta con il pubblico. Mi auguro che ci sia il pubblico allo stadio, credo che il pubblico sia una cosa quasi obbligata, dove non si può prescindere dal pubblico. Io credo con le dovute cautere, con le dovute precauzioni, ma noi abbiamo l'impianto adatto, la struttura necessaria per poter ospitare il pubblico. Io mi auguro di poter ripetere, quantomeno come anno scorso, quello sì, però non è il caso di fare promesse o voli che non ci appartengono per filosofia della società, di tutti noi. L'importante è che i nostri giovani crescano, che le nostre idee riescano ad andare avanti, cercare di farli viaggiare sul campo nella maniera migliore possibile. È chiaro che adesso inizieremo a muoversi anche sul mercato, visto che siamo chiamati a farlo e lo faremo nella maniera certamente migliore possibile, alla nostra possibilità. Grazie.